Giga, parto da questa grande cavalcata, questa grande rincorsa che è stata operando con la Tezenis. Siete riusciti a riassestare una stagione che si stava mettendo male, ma adesso ormai consolidata la posizione play-off. Ti chiedo cosa vi aspettate da qui al termine della stagione? Beh, noi volevamo vincere come tutti. Adesso che siamo in striscia stiamo lavorando per migliorarci, perché alla fine noi in queste sette partite non è che abbiamo avuto tanto tempo per allenarsi, perché giocavano ogni tre giorni, in mezzo c'era anche una trasferta lunghissima da Sicilia, tra Paglia e Capodorlana, quindi ora abbiamo il tempo per lavorare bene. Stiamo cercando di lavorarci ogni giorno, facendo anche dei doppi allenamenti, anche se non giochiamo da tantissimo ormai e non giocheremo neanche questa settimana. Cosa aspettiamo? È difficile di fare i pronostici. Noi volevamo vincere sicuramente, poi cercheremo di fare del nostro meglio. Tu come ti trovi qui a Verona? Mi sto da Dio a Verona, è una città che si vive bene, quindi mi trovo, nonostante adesso sia Covid, ma sinceramente con Covid sono riuscito a vedere le cose che prima non avevo mai visto. Sono venuto tante volte a Verona, ma al centro c'era talmente tanta gente che non è che riuscivo a fare attenzione ai dettagli. Ora invece ho girato tutto senza i turisti e non si riesce meglio a girare in città. Parlavamo prima di questa risalita della Tezenis e la squadra, come mi ha anticipato prima Albi, con l'avvento di Coach Ramagli ha indubbiamente cambiato marcia. Ma forse la qualità, il grande merito del gruppo è stato quello di aver cambiato mentalità, ma dando anche seguito e continuità al lavoro fatto con Coach Diana, giusto? Quindi aver trovato nel cambiamento una sorta di continuità. Cosa ne pensi? Certo, anche perché tutto quello che abbiamo fatto con Andrea non è che abbiamo buttato via. Abbiamo lavorato, ma non siamo riusciti a esprimere quello che riusciamo a esprimere con Ramagli adesso. Di solito quando c'è cambio allenatore qualche scintilla scatta sempre per i giocattoli, perché se hai con le spalle al muro, eravamo gli ultimi, era abbastanza prevedibile una reazione. Non così come abbiamo fatto, perché nessuno non avrebbe mai pensato di fare 7 su 7. Però che andava verso meglio, questo ce lo immaginavamo, diciamo, perché di solito è sempre così nella storia, quando viene cambiato allenatore, i giocatori cercano di… hanno paura di essere tagliati anche i giocatori, ecco. Quindi cerchi di fare molto meglio di quello che hai fatto prima. E che arma ha a disposizione Verona per far sì che diventi la stagione giusta per il grande salto? Verona ha un'arma che ha un impianto, lo staff e la società, che è la cosa fondamentale, diciamo, che c'hanno tutto e manca solo il titolo, ecco, il resto c'hanno tutto. Per quanto riguarda invece il fatto che giocate in palestre vuote, quindi vi manca il tifo così, quanto vi pesa? E' già tanto che ci hanno fatto giocare all'inizio, a settembre, non si più sapeva neanche se cominciavano o non cominciavamo il campionato. Quindi bisogna sempre guardare la realtà, quello è, quello dobbiamo accettare. Sì, ovviamente a nessuno piace giocare senza il pubblico. Poi purtroppo quest'anno è così, quindi ci siamo abituati. Volevo domandarti una considerazione un po' su questa seconda fase di campionato ormai alle porte. Quali sono le realtà che secondo te sono più strutturali o comunque che ti spaventano, tra virgolette, un po' di più nella corsa alla 1? Beh, sicuramente Torino è quello che affrontiamo sabato prossimo e sono veramente, veramente forti. Poi, visto che hanno giocato Coppa Italia la settimana scorsa, Napoli ha dimostrato che è una squadra costruita proprio per vincere il campionato. Hanno dimostrato, giocando la Coppa Italia, vincendola. Poi ce ne sono, comunque nel nostro girone, Tortona è una squadra tosta. Non ci spaventa nessuno, se diciamo la verità io ti dico le squadre che sono forti, favorite, però per dite abbiamo paura di loro? No, perché siamo forti anche noi. È stata forse la partita contro Udine quest'anno, il vero crocevia della stagione? Contro Udine era una partita molto tosta. Poi abbiamo giocato a Udine, che vincere Rana non era semplice, però, che dire, eravamo in gas, eravamo in gas, quindi abbiamo preso il fiducia, ci stiamo divertendo di più, muoviamo più la pala, quindi ci piace giocare così, siamo più tosti adesso. Un giocatore della Scaligera che quest'anno ha fatto la differenza, non solo in campo ma anche all'interno proprio dello spogliatore del gruppo. Beh, allora, diciamo, Gio Pini è quello che è stato fuori più di tutti perché ha dovuto fare intervento, però è sempre stato là a darci i consigli, quindi lui è un maestro, io parlo per i lunghi più che altro perché lui in difesa è un maestro, perché riesce a rubare delle posizioni. Ogni tanto vado là e chiedo sempre, guarda Gio, insegnami come fai questo, soprattutto passare su un, si chiama un cross screen, che lui riesce a passare con il suo difensore, che io veramente l'ho visto tante volte, ma non ci riesco, io becco sempre il bocco, lui riesce sempre a schivare. Posso dirti che Gio è un giocatore molto fondamentale perché è molto attento su tutto, poi quando arrivi in spogliatoio se hai bisogno del caffè ti prepara sempre lui, io direi Gio Pini è un giocatore molto fondamentale e molto importante anche fuori dal campo. E il giocatore che ti ha impressionato di più delle altre squadre? Cioè quello che dici, cacchio, questo qua è immarcabile? Allora, mi ha impressionato tanto Usman Diop che gioca a Torino perché era mio compagno di squadra due anni fa e abbiamo giocato insieme a Cagliari e ha messo su 15 chili, quindi quando l'ho rivisto dopo due anni con 15 chili in più, un attimo mi sono spaventato, ho detto Usman che che hai combinato, infatti non sta dominando, sta facendo a 20 punti di media quasi, quindi è il lungo più forte del campionato, diciamo così, fa impressione veramente perché fa di tutto, tira da tre, attacca, prende l'imparsi, in difesa, non puoi attaccare perché non lo sposti, quindi veramente posso dire Usman Diop. Poi ha anche 20 anni, è del 2001. Anche perché, insomma, non serve sottolinearlo, però i 15 chili che ha messo su non sono 15 chili di pancetta, ma sono 15 chili di muscolo e quindi immagino che su una stazza come la sua, insomma, si notano e non poco, no? Eh sì, eh sì. Infatti quando arrivavo a dritto ho detto, mi sposto perché se mi centra non penso che io mi rialzo in piedi. Però ovviamente mi ha fatto l'impressione rivederlo. Quanto il Covid ti ha segnato a livello mentale, a livello fisico, cioè questo periodo che dura ormai da più di un anno, che cosa ti lascerà? Mi lascerà dentro sicuramente, mi hai insegnato quanti soldi spendevo fuori a cena, ecco. Questo sicuramente mi ha fatto capire che spendevo veramente tanto prima del Covid, però vabbè. E quanti soldi quindi hai risparmiato? Mi sembra di capire. Vabbè, sono abbassati anche i gadget, quindi siamo più o meno là. Però ti fa capire l'importanza delle persone che ami e ti fa capire veramente che la famiglia è la cosa più importante che hai e resto, divertimento e arriva dopo. Sicuramente tutti i miei noni hanno avuto il Covid, sono stati all'ospedale e per fortuna se la sono cavati, però veramente ho avuto paura. Che dire, mi ha insegnato veramente tanto a livello umano, soprattutto a farmi apprezzare di più la famiglia, posso dire questo. Che dire, mi ha insegnato veramente tanto a livello umano, soprattutto a farmi apprezzare di più la famiglia, posso dire questo.